Lasciatemi fare una piccola introduzione, anche perché ci sono tantissimi questa sera, sono tante persone nuove, quindi vorrei proprio partire dal fatto che è veramente importante introdurre questo argomento altrettanto fondamentale. Si parla sempre più spesso di cosa fare, allora non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente, ma per cambiare qualcosa bisogna costruire un modello nuovo che renda la realtà obsoleta, una bella sfida voi direte, ma è quello che ci anima e ci fa perseverare. Allora voglio dedicare questa presentazione agli esploratori, a coloro che pur di fronte a mille difficoltà hanno saputo varcare i limiti dei territori inesplorati, che nell'ora più buia hanno mantenuto vivo anche un solo piccolo barlume di speranza e che hanno affrontato con l'estremo sacrificio il sistema per un bene superiore e proprio per questo hanno vinto per sé. Allora siamo in un momento dove veramente tutte le cose stanno cambiando, tutto quello che valeva prima non vale più, nuovi modelli, nuovi persone, professionisti, nuove modalità. Abbiamo visto che ci è cambiato il mondo in due anni con la globalizzazione, con l'adattamento alle difficoltà, superare difficoltà. Nello stesso tempo siamo in un mondo della salute molto vasto, ogni giorno ne esce una e si pensa tutti di avere ragione. Abbiamo un po' perso la grande forza dell'umanità, quella di unire le forze, invece che coltivare... il proprio giardino e guardare questa figura o cerchi o quadrati. Uniamo le forze, è lì che possiamo fare la differenza. Come la differenza la facciamo se siamo consapevoli che tutto quello che sta danneggiando il nostro mondo danneggia noi stessi. Danneggia questo acquario immenso che può essere paragonato alla nostra terra, ma che purtroppo, se noi la paragoniamo a un acquario, in questo acquario i pesci sono destinati a morire, senza ossigeno, senza nutrimento ottimale, senza un ambiente sano. E allora amo sempre dire che la vita è urgente, il DNA non è il tuo destino, perché dobbiamo lavorare sul futuro e sulla salute delle future generazioni. Partendo dal presupposto di tutto quello che facciamo sulla salute dei padri e dei madri, prima della gravidanza e poi anche durante la gravidanza, è lì che dobbiamo assolutamente insistere per capire dove vogliamo essere domani. Allora da sempre propongo questo concetto dei vari fattori che interferiscono con la salute delle persone, l'epigenetica è il software della vita e anche il 2% la genetica, 98% l'epigenetica. E allora cosa stiamo facendo con il software della vita, con tutti i fattori che possono interferire con la nostra salute? Quante volte noi prendiamo in considerazione, voi professionisti, la carenza di ossigeno? La carenza di ossigeno purtroppo siamo abituati a vederla dare quando è troppo tardi, quando le persone sono in fin di vita. Ma questa è una grande opportunità che abbiamo oggi veramente di lavorare a fondo su questi concetti a scopo preventivo, di supporto per depurare, disintossicare, nutrire prima di tutte le cellule, partire da una disfunzione mitocondriale, partire con tutti i fattori che oggi non sono più quelli di 100-200 anni fa. E poi mettere insieme queste informazioni. Non si può guardare solo l'anturizione, solo l'aria che respiriamo. Dobbiamo mettere insieme, dobbiamo unire le forze. Già queste le conoscete bene, però chi è che è in grado di fare un'analisi di tutte queste sostanze, tutti questi fattori a scopo preventivo e predittivo? Se questo è vero, perché ogni evento che uno può fare in medicina funzionale, in medicina preventiva, quante volte sentiamo parlare, a parte di carenza di ossigeno, di ATP, di disfunzione mitocondriale, è veramente raro, però il resto, no, neanche danno un microcircolatore, neanche danno il DNA, danno agricocalcio, no, neanche danno agricocalcio. Di cosa si sente parlare? Delle solite cose. Allora oggi vogliamo parlare anche di altro, oltre che delle solite cose, perché sono importanti, dicevamo prima che abbiamo bisogno proprio di ripetere, perché l'eccellenza è un'abitudine, perché tutte queste informazioni ci permettono di lavorare sulle funzioni vitali, quindi sul nostro corpo e sul metabolismo. Sono tutte informazioni segnali epigenetici. Basta pensare al concetto di che noi mangiamo per produrre idrogeno, respiriamo per avere l'ossigeno, purtroppo cosa mangiamo e cosa respiriamo, la produzione di ATP, questa molecola indispensabile per la vita, ormai è troppo sottovalutata. Perché sottovalutata? Perché ci arriviamo tardi. O non utilizziamo l'ossigeno, perché abbiamo un difetto di fabbrica, passatemi il termine, una disfunzione mitocondriale, oppure c'è un problema di ipossia, di carenza di ossigeno, di gestione, di adattamento alle carenze di ossigeno. È chiaro che se la produzione di ATP è limitata, qualsiasi funzionalità è limitata. Quindi conoscere degli indicatori epigenetici, per esempio oggi parliamo di nutraceutica, parliamo del ruolo degli antiossidanti, dei minerali, delle vitamine, parliamo di amminoacidi, parliamo di acidi grassi essenziali, lo parleremo poi in altri appuntamenti, però tenete presente che tutti questi fattori sono indispensabili. Perché sono così indispensabili? Guardate, noi, alcuni di voi sanno che abbiamo questo test epigenetico per capire come sta funzionando il nostro sistema e cosa ha bisogno. Ma vedete, se una persona è intossicata da sfide ambientali come le sostanze chimiche, idrocarburi, possono essere anche radiazioni, possono essere metalli pesanti, vedete che ci sono anche delle carenze, vitamine, acidi grassi essenziali, minerali, e io devo conoscere queste carenze. Quanti esami dovrei fare per conoscere queste carenze? Come sapete, la nutraceutica serve anche proprio come integrazione a supporto di una dieta equilibrata, ottimale, ma deve essere poi un, anche come ci insegna il grande Mauro, una mirata a seconda delle esigenze individuali. Quindi bisogna conoscere di cosa ha bisogno la persona, qual è la riserva di quella persona, sta andando in riserva del sistema immunitario, il sistema gastrointestinale, il sistema cardiovascolare, cosa sta succedendo? E vedete, per esempio, in un sistema immunitario, quanti sono i fattori che interferiscono. Guardate dalle vitamine, minerali, sistema antiossidante, e guardate quanto è fondamentale anche magari conoscere che quella persona è intossicata da quelle sostanze. Quindi come vengono rimosse quelle sostanze? Attraverso micronutrienti, minerali, vitamine, il sistema antiossidante. E quindi è fondamentale, ecco perché questa serata sulla nutraceutica, come supportare il sistema gastrointestinale, capire perché certe sostanze non vengono assunte o assimilate, oppure perché non c'è una via di somministrazione ideale che le permette di essere assimilate. Come per esempio supportare il sistema cardiovascolare, fondamentale, però se io non le conosco, cosa ha bisogno quella persona, capite che diventa difficile. Come eliminare l'impatto ambientale, che spesso, come sapete, inverte nel caso dei campi elettromagnetici, inverte la polarità della membrana cellulare, quindi fa fatica essere assimilati certi nutrienti. E poi sapere se c'è una virosi, una post-virosi, se c'è una candida, è fondamentale. E sapere anche cosa a una persona manca e i cibi dove lo trova. E quindi fare un approccio anche nutrizionale ottimale secondo le carenze di quella persona. Poi abbiamo tutti, tanti altri fattori, dallo stato psicologico, le stagioni, non se ne ti abbia più conto perché andiamo a fare la spesa e abbiamo le fragole d'inverno, le ciliegie d'inverno. Insomma, si dice, un modo di dire, non ci sono più le quattro stagioni, ma non ci sono veramente da nessuna parte, neanche nell'alimentazione, nel nostro modo di vivere. accendiamo la luce alle 4, alle 5, quando va giù il sole e rimettiamo in moto il nostro motore, ma dovremmo andare a riposare. Quindi pensate tutto questo squilibrio infinito a cui noi dobbiamo porre un rimasto. È chiaro che possiamo consigliare a persone di vivere bene, quindi cambiare stile di vita. Sfido chiunque a fargli cambiare città, lavoro, come è possibile, casa dove vive. È veramente difficile. Però dobbiamo creare consapevolezza sulle persone che continuano a vivere in certi luoghi e non possono cambiare. Perché, come sapete, noi abbiamo oltre 200 siti da bonificare in Italia conosciuti, Italia dei Fuochi, non c'è solo a Cerra, c'è Bergamo, Brescia, dove l'impatto ambientale sta veramente danneggiando in profondità intere generazioni. Perché un printing epigenetico dei danni da inquinamento sono veramente ormai fuori la soglia. Certo, con la dieta possiamo lavorare molto, sfido chiunque a trovare un cibo sano oggi, però, è certo, l'epigenetica con la nutrizione è fondamentale. Quindi, oltre all'equilibrio nutrizionale, bisognerebbe poi lavorare sull'equilibrio della mente, sul corpo, le emozioni, l'ambiente. Lavorare sulla carenza di ossigeno indispensabile per la vita, sull'orologio biologico, ne parlavamo prima. Noi ormai abbiamo rivoluzionato il ritmo sonno vero. rivoluzionato. Ecco, perché poi viaggiamo sempre in emergenza, con l'acceleratore sempre schiacciato, non rallentiamo mai e poi andiamo a sbattere. E poi l'impatto ambientale, ormai viviamo dentro i luoghi chiusi dove tossine, pensate che l'inquinamento dei luoghi dove si vive è dalle 4-5 volte più inquinato che all'esterno. Le malattie sono in aumento, questo lo faccio sempre vedere, ma soprattutto nei bambini da 0 a 2 anni. Non si parla di remitilazione, non si parla di quello che è caro, come ne parlerà Mauro Miceli, del controllo dell'omocisteina attraverso la nutraceutica, quanto questo possa essere indispensabile. Il ruolo dei nutrienti della nutraceutica, la fitoterapia nel rafforzare il sistema immunitario. Ormai i lavori scientifici ce ne sono tantissimi. e non c'è solo il virus, c'è lo stress, la contaminazione, ci sono tutti i fattori che dobbiamo comunque tenerne conto, come il mesenchimo, il tessuto connettivo, quindi lavorare sul terreno della persona, lavorare sul suo reale rischio congenito, sulla costituzione della nascita, lavorare dal fatto che le patologie iniziano a livello cellulare, parlare di lipidomica, ne parleremo, faremo delle serate specifiche dopo questa, su tutta la fitoterapia, i danni da campi elettromagnetici, parleremo di acidi grassi essenziali, perché dobbiamo parlare di CEL, del DNA, sulla matrice extracellulare, fondamentale, ma vedete, se noi non parliamo anche di glicocalici, non arriviamo in fondo al gestire la causa e la concausa. ci ha donato questa casa meravigliosa che è il nostro mondo, ce l'hanno donata. Ecco, pensate cosa stiamo facendo a questo mondo, compriamo pubblicità, viviamo in un mondo malato, abbiamo una serie di inquinanti di cui teniamo poco in considerazione dal termico, l'acustico, non ci facciamo caso a queste cose, questo è il nostro mondo. vogliamo fare un minuto di silenzio per questo mondo che stiamo lasciando i nostri figli o possiamo pensare a questo? Sapete che una sigaretta ormai inquina più che un early devinson, un'auto a motore diesel, persino un tir? Studi dell'università del istituto Mori di Milano. Queste sono cose che dovrebbero farci pensare. una sigaretta. Cosa abbiamo fatto in 50 anni alle future generazioni? Guardate, di protezione del carbone, il fiume più inquinato al mondo, solo un'introduzione veloce, però vedete cosa stiamo creando a questo mondo, 140.000 sostanze chimiche, queste statistiche che interessano a nessuno perché queste non si vedono in televisione, 370.000 morti di tumore nel 2019 e tutti i fattori di rischio della società di oncologia medica, quindi fonti ufficiali e le malattie che si programmano a livello fetale. E allora questo è quello che io voglio dare come messaggio. Nella salute raccogli quello che sembri, ma non solo, anche quello che ti viene donato. e guardate, effetti dell'inquilamento ambientale, l'incidenza dei tumori, delle malformazioni fetoneonatali ed epigenetica. E allora quando noi questa mese faremo, il prossimo mese, la letterina di auguri ai nostri figli, dovremo anche metterci questi auguri e questo regalo che gli stiamo facendo alle future generazioni. È un messaggio forte, ma questa è la realtà. dove poi ci sono i campi elettromagnetici, ormai cellulari usati come babysitter, i wifi. E guardate cosa accade, è un bambino che è continuamente bombardato da radiazioni elettromagnetiche. Guardate quello che accade nel fatto che ci sono le linee guida ormai dell'European 2016 per la prevenzione sulla diagnosi e il trattamento delle malattie e dei problemi sanitari legati ai CEM. Che cosa vuol dire? Che tutte le persone che sono a contatto con i campi elettromagnetici oggi stanno diventando elettrosensibili. E guardate l'elettrosensibilità in aumento come la sensibilità chimica mutua. Questo è un documento importante, se lo volete chiedete, sono pagine importanti. vedete, virosi, batteri, traumi, funghi, peti, cosa fanno aumentare lo stress nitrossativo e lo stress ossidativo. Ecco perché anche in questo documento si raccomanda l'uso di sostanze antiossidanti, di nutrienti fondamentali e di stare attenti alle carenze nutrizionali. Anche per evitare l'infertilità, nei ragazzi siamo al 60%. Allora quando è che diventeremmo saggi? ma io parlo di medicina personalizzata, predittiva, preventiva, partecipativa da tanto tempo, parlo di rimettere in moto il motore mitocondriale, parliamo di possia, di carenza di ossigeno, di mitocondri, parliamo del fatto che tutte le malattie sono a disfunzione mitocondriale, parliamo di infiammazione. Allora perché? Quali integratori? La importanza della capacità antiossidante, vedete, il ruolo dei micronutrienti è fondamentale per la cito protezione energetica, la modulazione immunitale, l'infiammazione, lo stress ossidativo, il contrasto cronico, delle malattie, eccetera, eccetera, ma si accumula stress, attività fisica intensa e magari non c'è una nutrizione ottimale, poi i ritmi sono veglia e poi le carenze e il fabbisogno che naturalmente ne abbiamo bisogno per invecchiare meglio per invecchiare bene e ne ritroviamo nei cibi? Beh, guardate gli studi, gli studi dimostrano che già nel 2000 con fronte al 50 guardate le carenze nutrizionali di vitamine e minerali, ecco perché dico attenzione, dobbiamo fare una mappatura per conoscere quali sono i fattori che danneggiano la salute a partire dalla carenza di ossigeno. Abbiamo scritto un libro edito da Edra che è scaricabile anche online su questi argomenti e noi da sempre proponiamo surf food come sapete in grado di riattivare l'ossigenazione a livello mitocondriale quindi un modulatore fisiologico dell'ossigeno in grado di regolare questo fattore fondamentale di possia e normosia che è stato denominato un pool antiossidante sinergico e sistemico e un farmaco illegale assolutamente come vedete sono tutti gli studi scientifici che dimostrano addirittura che se ne può bere anche 400 grammi tutti insieme senza tossicità quindi se avete a che fare con un nutraceutico chiedetegli qual è la DL50 di questo nutraceutico qual è la dose che mi può essere dannosa e lo stesso vedete l'importanza di lavorare a livello dell'acqua del corpo questo prodotto aumenta l'ossigenazione quindi fino al 60% la capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano e quindi noi subito possiamo lavorare sui mitocondri sulle cellule come donatore di ossigeno e poi attenzione la biodisponibilità l'assimilazione questo è un dato fondamentale per un nutraceutico vedete la conduttanza da 9 micron a 192 mila questo vi permette di capire poi che questo nutraceutico diventa un colloide quando lo mettiamo nell'acqua quindi altamente biodisponibile assimilabile attraverso la mucosa o sublinguale poi lo vedremo mai la ricerca scientifica sta andando su questa direzione per la somministrazione anche nutraceutica sublinguale e questo lo vedremo dopo ne parlerà il dottor Maurici Miceli quindi ci sono tutta una serie importanti di studi fatti vedete anche sui fumatori sugli atleti sulle persone suorappeso dove è stato dimostrato la riduzione dello stress sedativo del 27% studi sul sangue questi sono tutti studi che poi se avete bisogno ve li possiamo far avere anche vedete microscopia in campo scuro in campo chiaro questa è una patologia importante qui è arrivata a 40 gocce tre volte al giorno questi sono i studi già che avete visto sull'azione sulle cellule e quindi sull'attivazione mitocondriale il DNA mitocondriale delle cellule UV studi sulla capacità antiossidante studi sulle patologie neurodesenerative questo su 39 pazienti ma quest'altro studio è stato fatto sulla rimozione da metalli pesanti su 230 pazienti con follow up di un anno e questi sono tutti gli studi che in grado che hanno dimostrato aumento diminuzione dell'aromocisteina miglioramento dei livelli di stress ossidativo e capacità antiossidante riduzione del colesterolo ossidato perché ha una capacità di lavorare sull'LDL ossidate sulle celluline della cellule leocemiche questo è uno studio importante perché mandiamo una la modulazione il p53 ancora una pubblicazione su Oncotarga insomma questi studi li avete visti anche sui vari sulla scuola studio sulla fibromialgia in questi casi si arriva anche a dosaggi importanti poi li vedremo dopo quello in cui voglio arrivare ecco se volete approfondire tutti gli studi sono su publet quindi sono a disposizione dei dosaggi ne parleremo dopo voglio passarti la parola con questa piccola presentazione di un caso clinico questi sono i tre prodotti che sono stati usati questo è una mano di una persona abbastanza infettata prima durante per esempio di micobatteri abbiamo abbastanza veloci questo è il trattamento evidente guarigione risultato finale dopo sei settimane questo è il risultato poi se volete il protocollo lo facciamo avere questo è un caso di psoriasi con la testimonianza di questa paziente questa era la situazione prima questo è il protocollo anche questo se ne avete bisogno fatelo richiesto voglio fargli una foto fatela insomma e e questo è il risultato dopo due mesi al terzo mese era già così e questa è un'altra testimonianza importante e allora voglio passare la insomma la la relazione la parola a uno veramente uno dei massimi esperti che nel nostro mondo della nutraceutica io poche persone l'ho vista studiare con questa passione ma anche proprio certosina insomma particolare impegno in questo mondo dalla fitoterapia della nutraceutica con delle lezioni magistrali che veramente sono emozionanti per la sua capacità di farci capire come funzionano certi meccanismi nella fisiopatologia nella chimica nella biochimica e quindi è veramente un piacere averlo con noi e parleremo poi se ci sarà tempo di essere immuni che è una novità importante piacere avere con noi il professor Mauro Miceli grazie a tutti grazie a tutti